Ciao a tutti ragazzi, con questo video voglio creare una super guida per tutti quelli che cercano di costruire una rendita passiva tramite l'affitto di un immobile, di una casa, acquistandola, mettendola a posto se necessario e poi mettendola in affitto, avendo così un inquilino che ci paga un affitto di mese in mese Da oltre un anno sto studiando il mondo immobiliare e sono alla ricerca di un immobile appunto da mettere in affitto però se alcune volte sono andato a tanto così dall'acquistare una casa per mettere in affitto perché pensavo che fosse un affare molte di quelle volte, anzi quasi praticamente tutte, non si sono rivelate un buon affare Come ho fatto a scoprirlo? Beh, in questo video voglio mostrarvi esattamente come io personalmente calcolo la rendita di un immobile d'affitto Per prima cosa come si possono fare soldi con una casa? Beh, ci sono due modi per farlo Il primo modo è fare soldi generando una plusvalenza ovvero acquistiamo una casa ad un certo prezzo poi la rimettiamo a posto, la miglioriamo magari e poi la mettiamo in vendita ad un prezzo superiore Ad un certo punto quando troviamo un acquirente che è disposto a comprare la casa al prezzo maggiorato allora è a quel punto che abbiamo generato una plusvalenza cioè la differenza tra il prezzo di rivendita della casa e il prezzo di acquisto di quella casa Il secondo modo di fare soldi con gli immobili è quello di generare un cash flow mensile un affitto che ci viene pagato dall'inquilino e che ci permette di arricchirci mese dopo mese In questo caso dopo aver acquistato una casa, averla ristrutturata e averla perché no anche migliorata la mettiamo a disposizione di quelle persone che hanno bisogno di un'abitazione al costo di 500, 600, anche 1000 euro al mese a seconda della zona specifica in cui si trova la casa Infatti uno dei problemi o delle valutazioni più importanti che bisogna fare quando vogliamo acquistare un immobile per metterlo in affitto o per rivenderlo è il territorio su cui sta quell'immobile Infatti molto spesso capita che due paesi vicini abbiano dei prezzi degli immobili locati su ciascun paese molto differenti magari perché uno ha un'attrazione turistica molto importante oppure il paese di fianco ha dei servizi e delle strutture molto sviluppate In questo video voglio fare una mega guida per calcolare il rendimento da affitto esclusivamente da affitto e non da plusvalenza Questo perché ci sono alcuni costi importanti da considerare nell'acquisto di una casa e nel mantenimento di una casa In questo video voglio darvi le basi per capire esattamente come calcolare il rendimento di un immobile Ok quindi per valutare l'investimento dobbiamo valutare le spese della casa del mantenimento e tutte le spese accessorie dell'investimento La prima cosa che ci serve è una casa fisica perciò dobbiamo andare a ricercare una casa attraverso le pubblicità ad esempio i volantini che ogni tanto vengono distribuiti dalle agenzie immobiliari oppure online attraverso portali come immobiliare.it In questi annunci nel 90% dei casi è presente il prezzo della casa se non è presente solitamente è richiesto di inviare una mail per informazione all'agenzia immobiliare è molto semplice ottenere il prezzo effettivo della casa basta richiederlo oppure guardare quell'annuncio Io per l'esempio di questo video ho deciso di impostare i calcoli utilizzando un costo per la casa di 80.000 euro ma ciascuna casa ha il proprio prezzo come dicevo prima in base al territorio, in base alla zona dove si trova, in base anche alle dimensioni della casa solitamente ciò che si vuole cercare quando si vuole acquistare un immobile è un immobile che deve essere lavorato, ristrutturato perché in questi casi si tratta di immobili che per chi li vende molto spesso sono delle passività semplicemente una spesa che si vogliono levare di torno e che vogliono affibbiare a noi però noi vogliamo acquistare quell'immobile per trarne profitto in futuro perciò queste potrebbero essere delle buone occasioni la ristrutturazione della casa però ha un costo e quello che dobbiamo fare a questo punto è stimare quali sono questi costi la stima dei costi di ristrutturazione e anche dei costi successivi sarà sempre più precisa tanto più acquisiamo esperienza nel mondo immobiliare però già dal momento in cui riusciamo fisicamente ad andare a visitare l'immobile richiedendo un appuntamento all'agenzia immobiliare ci possiamo fare una buona idea di quali sono i problemi della casa che devono essere da noi messi a posto tra questi problemi possono esserci degli impianti obsoleti possono esserci degli impianti che vogliamo rifare nuovi sfruttando anche i numerosi vantaggi fiscali in questo momento esiste anche un ecobonus del 50% comunque nel mio esempio voglio considerare un costo totale di ristrutturazione pari a 10.000 euro a questo punto dopo aver messo a posto gli impianti, le pareti, interne ed esterne e poi anche magari le finestre dobbiamo acquistare dell'arreddamento e renderla il più piacevole possibile in questo caso le filosofie sono due in funzione di cosa vogliamo fare con quell'immobile se vogliamo acquistare l'immobile per generare una plusvalenza allora quando acquistiamo dell'arreddamento dovremo acquistare dei prodotti di qualità un po' superiore per aumentare il valore complessivo dell'immobile mentre se vogliamo acquistare un immobile per metterlo in affitto allora possiamo permetterci di acquistare degli arreddamenti di qualità un po' inferiore sull'arreddamento per mettere in affitto un immobile il risparmio dovrebbe essere quasi massimo e dovremmo arrivare a spendere una cifra totale che si aggira attorno ai 10.000 euro a questo punto entra in gioco uno degli elementi più importanti quando vogliamo calcolare il rendimento di un immobile cioè il mutuo è utile perché possiamo utilizzare la leva finanziaria per guadagnare di più utilizzando soldi di altre persone l'obiettivo del mutuo dovrebbe essere quello di minimizzare il nostro investimento iniziale nell'immobile e massimizzare la rendita finanziaria dell'immobile nel lungo termine solitamente il mutuo massimo cioè il prestito massimo che la banca ci concede è pari all'80% del valore calcolato della casa attraverso la perizia in questo caso diciamo che riusciamo ad ottenere un mutuo di 72.000 euro considerando gli 80.000 euro della casa i 10.000 euro di ristrutturazione e facendo l'80% della somma dei due valori oltre al mutuo in sé la banca quando ci concede un prestito include all'interno del prestito altre spese tra queste la perizia di valutazione dell'immobile di cui vi parlavo prima questa consiste in un esperto che viene a visionare la casa e a dare un valore complessivo dell'immobile una stima e da questo calcolare l'80% del valore dell'immobile il costo della perizia più il costo delle varie spese ulteriori per le pratiche è addebitato una sola volta ed è pari a 1.500 euro diciamo in questo caso per proteggere il nostro investimento abbiamo bisogno di assicurazioni per quanto riguarda il prestito e la concessione del mutuo la banca ci obbliga ad avere l'assicurazione sulla casa per un valore diciamo di 250 euro ogni anno se vogliamo rendere il nostro investimento ancora più sicuro possiamo stipulare delle assicurazioni sulla nostra vita o sulla nostra salute in questo caso stimiamo una somma delle assicurazioni che andremo a pagare di 200 euro ogni anno il valore complessivo del mutuo dipende dalla durata del mutuo infatti più sarà lungo il mutuo più dovremo pagare gli anni di assicurazione possiamo scegliere la durata del mutuo che preferiamo tra 20, 30 anni, 15 anni, 10 anni quella che vogliamo in questo esempio considererò la differenza tra un mutuo a 20 anni e un mutuo a 30 anni per mostrare anche quali sono gli vantaggi e gli svantaggi di avere un mutuo più breve o più lungo con i numeri che utilizziamo in questo esempio 250 euro di assicurazione sulla casa e 200 euro sulla nostra assicurazione personale andiamo a pagare 450 euro l'anno che si traducono per un mutuo a 20 anni in 9.000 euro da sommare al mutuo complessivo e per un mutuo a 30 anni significano 13.500 euro in più da sommare nel mutuo complessivo a questo punto sappiamo il valore complessivo del mutuo cioè quanto ci presterà all'inizio la banca ovviamente questo prestito non è gratuito ma lo dobbiamo pagare e in che modo? con gli interessi in questo momento storico abbiamo la fortuna di avere delle banche che offrono dei tassi di interesse minimi storicamente minimi e utilizzando un comparatore online di mutui e un calcolatore di mutui possiamo facilmente capire quanto andremo a pagare in totale di interessi e in questo caso dobbiamo fare la distinzione tra TAN e TAEG noi dobbiamo sempre guardare il TAEG perché è inclusivo anche di tutti gli altri costi e non solamente del costo dell'interesse applicato al mutuo in sé quindi come vi dicevo utilizzando un calcolatore online è semplice calcolare quant'è l'interesse totale che andremo a pagare sui 20 o 30 anni sulla durata dell'intero mutuo inoltre il tasso di interesse sui mutui varia a seconda della durata del mutuo un mutuo a 20 anni solitamente ha un tasso di interesse inferiore rispetto a un mutuo a 30 anni perché su un periodo più lungo ci sono più rischi potenziali in totale per un mutuo a 20 anni di 82.500 euro andremo a pagare 9.001,42 euro di interessi su 240 rate questo significa 381,26 euro ogni mese e 4.575,12 euro ogni anno invece per quanto riguarda un mutuo a 30 anni il valore complessivo del mutuo è pari a 87.000 euro e gli interessi che andremo a pagare sono 18.851,71 euro questo significa andare a pagare 294 euro e 3 centesimi ogni mese e ogni anno andremo a pagare 3.528 euro e 36 centesimi come potete vedere utilizzando un mutuo a 30 anni andremo a pagare più del doppio degli interessi ma in realtà utilizzando un mutuo con una durata maggiore non ci sono solo degli svantaggi tra poco lo vedremo oltre ai costi del mutuo della casa ci sono altri costi da tenere in considerazione il primo tra questi è il costo dell'agenzia immobiliare che ci darà una mano nello svolgimento delle varie pratiche e ci seguirà passo dopo passo nell'acquisto dell'immobile queste spese solitamente hanno un costo fisso più una percentuale del valore dell'immobile diciamo che in questo caso le spese per l'agenzia siano pari a 3.000 euro il costo successivo per l'acquisto di un immobile è il notaio la sua funzione è quella di ratificare il passaggio di proprietà e verificare che l'immobile sia privo ad esempio di ipoteche cosa che metterebbe a serio rischio il nostro investimento anche in questo caso stimiamo una spesa intorno ai 3.000 euro però devo dirvi per esperienza che alcune volte la spesa superava i 3.000 euro altre volte si aggirava intorno ai 1.000 euro infine l'ultimo costo che dobbiamo considerare nell'acquisto di un immobile è la tassa, l'imposta di registro che deve essere calcolato utilizzando una semplice formula convenzionale l'imposta di registro infatti si calcola utilizzando la rendita catastale che possiamo richiedere solitamente all'agenzia immobiliare oppure andare in comune e richiederla personalmente e poi dobbiamo moltiplicare questo valore per 126 e da questo prodotto dobbiamo calcolare il 9% diciamo che per queste cifre l'imposta di registro più le altre varie spese e imposte sono pari a circa 5.000 euro da considerare nel costo totale dell'investimento immobiliare dopo aver fatto tutte queste valutazioni siamo finalmente in grado di capire qual è l'investimento complessivo che dobbiamo fare per acquistare l'immobile che costa 80.000 euro nel caso di mutuo a 20 anni l'investimento complessivo è pari a 130.500 euro mentre nel caso di mutuo a 30 anni l'investimento complessivo è pari a 140.350 euro in entrambi i casi la spesa iniziale quello che dobbiamo sborsare subito è 39.000 euro infatti questo valore è dato dalla somma dell'agenzia immobiliare del costo per notaio delle imposte che dobbiamo pagare subito e del 20% del valore della casa più ristrutturazioni tutte le altre spese sono diluite nel tempo durante tutta la durata del mutuo perciò una volta calcolato quanto andremo a spendere inizialmente e su tutto l'investimento dobbiamo calcolare quelli che sono i guadagni potenziali del nostro investimento per farci un'idea di quanto possiamo guadagnare di affitto ogni mese possiamo o richiedere all'agenzia immobiliare di fornirci un valore stimato oppure possiamo chiedere al vicinato quanto paga di affitto o farcelo dire dall'agenzia se non vogliamo essere indiscreti diciamo di riuscire a ottenere un affitto mensile da questo immobile di circa 600 euro al mese ovviamente cifra lorda questo significa che ogni anno da questo immobile saremo in grado di generare un reddito di 7200 euro a questo punto ci sono le tasse da pagare sul reddito d'affitto solitamente si utilizza la cedolare secca pari al 21% mentre in altri casi è possibile avere una cedolare secca al 10% oppure se non vogliamo utilizzare questo regime possiamo avere una tassazione ordinaria non voglio complicare troppo le cose perciò in questo esempio considereremo solo una tassazione da cedolare secca cioè il 21% del reddito generato dagli affitti di 7200 euro lo dobbiamo pagare sotto forma di tasse questo ci lascia con 5688 euro l'anno però se vogliamo essere conservativi dobbiamo considerare un 10% dei nostri guadagni che andrà utilizzato per mantenere la casa per riparare quei piccoli difetti, quei piccoli problemi che possono comparire di tanto in tanto o per riparare a quei grossi problemi che possono comparire di tanto in tanto in questo caso io ho detto 10% ma possiamo utilizzare le percentuali che preferiamo 20%, 30% ad un certo punto dobbiamo chiederci però se ha veramente senso investire in quell'immobile se la percentuale che dobbiamo pagare di ciò che guadagniamo per ristrutturare ulteriormente l'immobile è così alta a questo punto dobbiamo andare a riprendere quello che abbiamo calcolato prima di spesa mensile per il mutuo a 20 o a 30 anni e vedere finalmente quanto rende effettivamente l'immobile quello che dobbiamo fare è prendere i guadagni totali dell'anno dall'immobile e poi a questo valore sottrarre i costi totali del mutuo anno per anno questi numeri si fanno capire come un mutuo di durata maggiore comporti sì complessivamente delle spese maggiori ma di mese in mese comporta delle spese minori perché sono diluite su più tempo questo in realtà se vogliamo ottenere un cash flow positivo e vogliamo avere un investimento sostenibile è a nostro grande vantaggio in alternativa invece se preferite avere un mutuo di più breve dorata aspettatevi di dover spendere di più ogni mese e non è garantito avere un cash flow positivo sempre con questi numeri possiamo calcolare due rendimenti molto importanti il rendimento sull'equity e il rendimento degli investimenti nel primo caso il ROE calcola il cash flow annuale diviso la nostra spesa iniziale cioè 39.000 euro nel secondo caso il ROE calcola invece il guadagno annuale il cash flow annuale diviso il costo totale dell'investimento con questi numeri ci rendiamo facilmente conto che il rendimento di un investimento con un mutuo 30 anni è molto più elevato di un investimento con un mutuo 20 anni comunque questi sono i calcoli che io personalmente svolgo ogni volta che un immobile reputo sia interessante ovviamente ci sono varie stime qua e là come ad esempio i costi per l'agenzia immobiliare i costi per il notaio però in realtà con poco sforzo riusciamo a ottenere dei valori più o meno precisi chiedendo direttamente agli interessati ad esempio attualmente nei prossimi mesi continuerò la mia ricerca sono alla ricerca di immobili che abbiano un rendimento attorno al 7-8% quelli credo che iniziano ad essere degli investimenti interessanti comunque per quanto riguarda questo video è tutto spero veramente che ti sia piaciuto e ti sia stato utile perciò se è così lascia un bel like e se sei nuovo sul canale iscriviti e attiva la campana di notifica noi ci vediamo al prossimo video grazie mille per aver guardato